I giocattoli avevano il marchio contraffatto di noti brand. Si tratta di prodotti Avenger, Fortnite, Barbie, Bing, Marvel e tanti altri in voga tra i bambini. Complessivamente sono 400.000 i giocattoli sequestrati alla Guardia di Finanza nel Catanese. L'operazione è cominciata in un negozio di Biancavilla ed è proseguita dopo l'analisi della filiera di distribuzione in un capannone di Mister Bianco gestito a commercianti cinesi, gli importatori dei prodotti. Le fiamme gialle, oltre alle contraffazioni dei popolari brand, hanno riscontrato anche l'assenza di avvertenze sulla sicurezza, la mancanza o in alcuni casi la contraffazione del marchio CE. I titolari delle attività sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per violazioni di rilevanza penale in materia di sicurezza dei giocattoli e per i reati di contraffazione e frode nell'esercizio del commercio.